Musica 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 Ciao a tutti Benvenuti in questa nuovissima video e benvenuti nel mio canale Oggi questa domenica stiamo andando al cinema so che non è una cosa proprio tipo diciamo così però ho deciso di vloggare lo stesso a vederci bene Sebastian 3 e nulla ancora c'è un po' di pranzare e noi al cinema ci andiamo a vestire le 5 e mezza avuto il film e nulla ok ci vediamo e nulla ci vediamo allora ragazzi sono arrivata in macchina e sono le 5 e adesso sto andando al cinema e quindi ci aggiorniamo appena arriviamo e adesso riprendo un po' la strada ciao 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 fammi capire c'è un momento in cui atrai più forte ciao allora il film è appena finito ed è stato bellissimo e adesso sono stata andata in bagno quindi sono alle ore 19 e adesso vado a casa e nulla spero che il blog vi sia piaciuto se è così lasciate un like commentate ed iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo presto in un prossimo video ciao